Con l'arrivo del primo weekend settembrino, la stagione estiva si prepara a chiudere i battenti. Numeri alla mano, il mese di agosto ha premiato la città di Pesaro, con spiaggi e hotel al completo di turisti, anche se pochi di questi risultano essere stranieri. I risultati delle ultime settimane però non bastano a compensare le perdite di una stagione che albergatori e balneatori avevano messo in conto già a partire dal post-lockdown. L'attenzione ora è tutta rivolta al mese di settembre, anche se l'assenza di eventi e manifestazioni porterà la maggior parte degli hotel a chiudere le porte già a partire da questo fine settimana e buona parte dei lidi a vedere pochi bagnanti sotto gli ombrelloni. Il mese di agosto ovviamente è stato molto buono, ma d'altronde il mese di agosto è stato molto buono anche negli anni passati, però il fatto che comunque avevamo le sofferenze del covid questo ci consola, ma sicuramente solo il mese di agosto non è sufficiente per gli albergatori, tant'è che un po' tutti gli alberghi hanno avuto mediamente un calo sul fattorato che va dal 40 al 50% con dei picchi per alcuni alberghi un po' più pesanti, ci sono alberghi che hanno lavorato al 30%. Per quello che riguarda il futuro, il mese di settembre praticamente purtroppo è molto austero, perché non abbiamo eventi programmati, per cui già alcuni alberghi hanno cominciato a chiudere questo weekend, alcuni chiuderanno il prossimo, altri ancora chiuderanno il 12-13 di settembre. Quindi credo che oltre agli annuali rimarranno aperti 4-5 alberghi stagionali che faranno una stagione leggermente più lunga, ma con il prossimo weekend, quello del 12-13 sostanzialmente la stagione estiva si chiude. Siamo preoccupati anche per il fine anno, perché ovviamente gli eventi che normalmente organizzavano le prologue sono in forte discussione, quindi non abbiamo ancora la conferma ufficiale che sono stati annullati, però la discussione è molto forte e la tendenza quella di non fare. All'agosto è stato molto intenso, pieno di turisti, naturalmente italiani, turisti stranieri non abbiamo visti, però abbiamo lavorato, abbiamo lavorato bene, a volte non siamo riusciti a dare le risposte, perché con il distanziamento avevamo meno posti disponibili, meno ombrelloni e quindi abbiamo dovuto per forza di cose, abbiamo cercato di accontentare il più possibile, ma avevamo meno posti. È un momento di soddisfazione essere arrivati a questo punto della stagione, a settembre, confidiamo in queste ultime settimane di fare ancora qualche numero. È stata confermata la tesi sostenuta sin dall'inizio, anche da noi di CNA Balneari, che il turismo sarebbe stato solamente quello di prossimità, quindi parliamo di la maggior parte di ospiti bagnanti qui dell'entroterra, delle zone di Mitrofe, chi ha le seconde case qui a Pesaro, bolognesi, milanesi e cose di questo tipo. Sicuramente i grandi assenti sono stati gli stranieri, olandesi quasi nessuno, proprio pochissimi, che gli altri anni invece ce ne vedevamo tanti. Teresca e i francesi la stessa cosa.